Tavoletta Liebig, il brodo con più estratto di carne, più sostanza, più sapore. Il brodo che gli piace. Presenta Rina Morelli, Paolo Stoppa in Vita con i figli. Sì, sono contenta che anche tu la trovi una buona idea. Naturalmente, anche Carlo, certo. Ah sì, sì, di solito scappa, è vero, ma sai, questa volta si tratta di fare del bene. Sì, esatto, beneficenza. Ma io direi di fare senz'altro per oggi. Sì, 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 Carlo è qui. Aspetta, glielo dico subito, un momento, cara. No! Perfetto, Carlo è d'accordissimo. Ricordati di avvertire che questa volta si tratta di una canasta benefica, nessuno deve mancare. Ciao, cara, ciao. Che cos'è una canasta benefica, papà? È l'ultima scoperta di tua madre, Leonardo. Vedrai, riuscirò a raccogliere una bella somma per i miei protetti. Oh, senza dubbio è una lodevole iniziativa. Però hai il grave difetto di coinvolgere anche degli innocenti. Senti, Carlo, non cominciare a creare delle difficoltà, ti prego. Io non creo nessuna difficoltà. Io metto la mia casa a disposizione di una quantità di parenti ed amici desiderosi di fare il bene del prossimo. Caro, ero sicura che avresti accolto questo appello di solidarietà. Figlio, lascio libero il campo, ma sparirò di qui nello stesso momento in cui avverrà l'invasione di quest'orda di benefattori. Carlo, non puoi rifiutarti di fare del bene. Io faccio il mio dovere versando immediatamente quello che perderei in tre ore di noia giocando a canasta con delle pettegole insopportabili. Con questo credo di avere il diritto di passare il pomeriggio come mi piace, vero? Sei sicuro che avresti perso tanto, caro? Sicurissimo, io sono padrone di perdere quanto mi pare piace. Che fai l'imparato? Vatti a vestire. Noi andiamo al cinema. Questa sicchia una famiglia si discute e ci si ama, poi la tavola riunisce madre, madre, figlia e figlia. Oh che festa, oh che festa, oh che famiglia. Sì, e con un brodo di Lemco gran successo a tavola, perché Lemco è un brodo completo di estratto di carne e carne di gallina. Mettete anche voi Lemco in pentola, sentirete che minestra è appetitosa, che brodo squisito. E che regali con Lemco? Sì, con pochi punti, regali di gran marca, sicuri per tutti. Che brodo e che regali con Lemco?